No, queste sono tutte chiuse, forse è una di quelle lì, forse. Ma questo non è lì? Può essere questa, questa qua. No, no, questa qua nemmeno. Non lo so, non lo so perché ci sono arrivati miei colleghi. No, no, non vedo. Le tecuse sono quelle figlie. Sì, sì, ho le viti. No, 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 no. Dica è questa, questa qua. È là, l'hai trovata. Anche l'ho vinto. Poi scusa da metterlo. Dai. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info www.mesmerism.info